Eccoci qui insieme nello stand Citroën per parlare di auto vecchie e nuove. Cominciamo con un focus su un'auto che viene presentata qui in anteprima nazionale. Sì, abbiamo la nuova C3 che giunge alla sua terza generazione e rappresenta un taglio netto, abbastanza netto con le due precedenti versioni di questo fortunato modello. Incarna un po' i nuovi valori dello spirito Citroën che poi, pensandoci, sono quelli di un tempo. Quindi divertimento, benessere, gioia di vivere. La due cavalli e la bandiera in casa Citroën, di questo modo di pensare. Parlando invece di auto che raccontano la storia di Citroën, cosa abbiamo? Abbiamo portato due sorelline della C3, due antenate della C3. Abbiamo portato una due cavalli e una Citroën Meari. La nostra due cavalli è una storia particolare perché si tratta di un esemplare che era destinato alla rottamazione e che, come si trova in Italia, abbiamo deciso di salvare recuperandolo e verniciandolo nelle tinte che ha scelto per noi Serge Gévant, che era l'inventore della due cavalli Charleston, della due cavalli Spot. Siamo andati a trovare questo signore simpaticissimo nel suo buon ritiro vicino a Parigi e lui ci ha regalato questo disegno di una serie speciale che non era mai nata. Quindi nel 1980 doveva nascere la due cavalli Soleil e noi l'abbiamo fatta nascere lo scorso anno in esemplare unico. E la Meari che abbiamo qui vicino, da dove viene? Dunque, Meari nasce nel 1968 mentre Parigi bruciava. La Citroën pensava ancora un attimo al divertimento e al relax e metteva in produzione questa sorta di spiaggina in plastica realizzata in ABS. La versione che abbiamo qua riprende le tinte e i meccanismi della Capote della serie speciale Azure che rispetto alla Meari normale offriva una Capote più semplice da ripiegare, più rapida, l'altra sembrava un po' una tenda da camping, insomma questa è più vicina al concetto di Capote.